La Calabria, come è noto, è una regione sottoposta a piano di rientro ed è commissariata dal 30 luglio 2010. È stata prima una fase nella quale il commissario è stato in capo al Presidente della regione, supportato da un subcommissario nominato dal governo, e poi a seguito dell'approvazione nel patto della salute, approvato nell'agosto 2014, si è determinata una incompatibilità tra la funzione di commissario e quella di Presidente della regione. Con l'entrata in vigore della legge che ha approvato il patto, cioè 1 gennaio 2015, ha determinato una condizione per cui il commissario è stata di diretta emanazione del governo, nella persona dell'ingegnere Massimo Scura, supportato da un subcommissario, Andrea Urbani, con nomina del Consiglio dei Ministri, del 12 marzo 2015. C'è un periodo dunque di circa 9 anni, circa 10 anni, di gestione commissariale. La gestione commissariale che è nata ed è stata realizzata sulla base appunto di una valutazione di inefficienza della regione a rispondere in termini appunto di riorganizzazione dei servizi sanitari, avrebbe dovuto realizzare entro un tempo determinato gli obiettivi di riqualificazione del sistema e di rientro dal debito, sostanzialmente. Cosa è avvenuto nel corso di questi anni? È avvenuto esattamente al contrario. Vorrei ricordare agli onorevoli membri di questa commissione che il primo decreto di nomina del commissario nella persona del Presidente, mio predecessore Scopelliti, conteneva 12 punti di funzioni che venivano assegnate al commissario. Il successivo, quello di scura, ne contiene 16, quello attuale, quello di Cotticelli, 23. In questi punti è compreso tutto, tranne la nomina dei direttori delle aziende. E quando dico tutto mi riferisco ai controlli, alla programmazione, al via libera anche alle aziende sugli atti aziendali, a tutto, ai controlli sia dal punto di vista dei bilanci delle aziende, sia dal punto di vista delle politiche concrete, sanitarie che le aziende portano avanti, in realizzazione ed in coerenza con il piano che è definito dal commissario. Quindi tutto. Perché io voglio partire da qui? Perché oggi, 2019, il Consiglio dei Ministri si riunisce il 18 aprile in Calabria. Voi siete membri del Parlamento e credo che, come me, avete ben chiaro che nella storia dei governi unitari, dello Stato unitario, non so se prima avveniva appunto con l'articolazione statuale precedente, ma nella storia dello Stato unitario mai i governi si sono riuniti in via straordinaria in un territorio, nemmeno in caso di terremoti, di calamità, di situazioni appunto straordinarie. Io mi aspettavo quindi che, proprio per questa straordinarietà, si determinassero provvedimenti tali da corrispondere intanto alle condizioni generali, perché erano state annunciate location diverse, Giulia Tauro, significative appunto, della condizione della Calabria. Ma poi, per quanto riguarda la materia specifica, che era oggetto di un decreto straordinario, in materia sanitaria. Voi che state esaminando questo decreto, avete cognizione, più di me, che in questo decreto non c'è una norma che interessa i servizi, una, che interessa i servizi sanitari. Una norma, per esempio, una norma con la quale si dice che, avendo la regione una mobilità passiva in progressivo aumento, faccio un esempio, vi chiedo scusa della banalizzazione, in progressivo aumento, con un'incidenza in determinate patologie oncologiche, patologie varie, allora c'è un investimento, una norma, che potenzia quei servizi sanitari, appunto, per contenere, per dare una risposta alla qualificazione dei servizi. Nulla di tutto ciò. Nel decreto, che è oggetto di discussione, non c'è un euro in questa direzione, appunto, non solo, ma nel decreto ci sono somme, 790 mila euro, una cosa di questo tipo, tutte concentrate all'aumento delle indennità dei nuovi commissari, 50 mila euro di aumento, più 20 mila per spese e missioni, con la motivazione nella relazione che io ritengo personalmente assolutamente inaccettabile, perché nella motivazione si dice che il rimborso delle 50 mila euro, il rimborso delle spese documentate, eccetera, ciò nell'ulteriore ed ancora più convinta considerazione che essendo massimamente auspicabile che i soggetti scelti per l'incarico commissariale provengano al di fuori del contesto professionale ed ambientale della Regione. È assolutamente inaccettabile questa considerazione. E nel dire questo non dico che bisogna che siano della Regione, ma che non bisogna, non si può accettare, lo dico in qualità di Presidente della mia terra, non si può accettare, appunto, di catalogare i professionisti come, appunto, incompetenti o magari qualcosa di più, o magari carichi di rognosa criminalità o illegalità. Non va bene questa cosa. E siccome questi sono atti parlamentari, io respingo questa impostazione, lo dico consapevolmente e con determinazione, questa impostazione che non fa altro, appunto, che buttare fango su una Regione che non merita fango e giustificare operazioni di altra natura. Non va bene. Chiedo al Parlamento di riflettere, lo chiedo al di là delle collocazioni e delle magliette politiche su questo dato rispetto ad una Regione che è una Regione dell'Italia. Non è il Burundi la Calabria. È una Regione dell'Italia la Calabria. Poi, permettetemi di dire, non c'è una norma, non c'è una riga, non c'è un comma che tratti la questione, il cuore, appunto, della sofferenza della sanità calabrese, che è quella della carenza di personale medico e paramedico. Non va bene questa cosa qui. Si presenta un provvedimento straordinario con una seduta straordinaria del Consiglio dei Ministri che lo assume e non c'è una norma per affrontare il cuore della questione. Noi abbiamo una carenza di oltre 1.400 medici. Sono dieci anni di commissariamento e otto anni di blocco del turnover. Otto anni di blocco del turnover. E se immaginiamo quello che succederà adesso con quota 100 in termini di pensionamenti a Valang che ci saranno, cosa si determinerà nel sistema sanitario calabrese? Ma è possibile che un provvedimento straordinario annunciato con tanta solennità per far fronte alle condizioni gravi del sistema sanitario calabrese non assuma un'attenzione minima rispetto a questi aspetti? Ditemi voi che avete letto indicatemi voi la norma il comma che naturalmente può essermi sfuggito che contiene risposte in questa direzione. Poi permettetemi di dire di fare un altro rilievo che è in linea con quello contenuto in quel passaggio della relazione che ho letto. A proposito della stazione unica appaltante. Allora vorrei l'articolo 6. L'articolo 6 inibisce infatti in radice agli enti del servizio sanitario della regione di avvalersi della centrale di committenza la sua la stazione unica appaltante ossia dell'unico soggetto aggregatore della regione. Vedi da ultimo delibera ANAC del 31 numero 31 del 2018. Per disegnare il contesto è opportuno evidenziare che la stazione unica appaltante in Calabria è stata istituita nel lontano 2007 legge regionale 26 del 2007 prevedendo come obbligatorio il ricorso alla stazione unica appaltante tra gli altri per gli enti appartenenti al servizio sanitario nazionale. Tale previsione non è mai oggetto di impugnazione ed anzi addirittura venne espressamente lodata nel ricorso a suo tempo proposto dal governo avverso altre disposizioni della medesima legge in quanto ritenuta idea virtuosa in un panorama connotato da frammentazione e delle stazioni appaltanti è particolarmente opportuna virgolette leggo dal ricorso del governo dell'epoca in un contesto territoriale del quale sono noti gli enormi rischi di condizionamento e di alterazione chiuse virgolette in proposito dunque il legislatore regionale ha anticipato di anni le linee di tendenza dell'ordinamento in materia di centrali di committenza realizzando obiettivi di legalità ed efficienza per come espressamente riconosciuto anche dalle stesse strutture ministeriali in proposito va rilevato che la stazione unica appaltante regionale non è mai dico mai stata oggetto di iniziative giudiziarie correlate alle procedure di affinamento effettuate per conto del servizio sanitario nazionale o di qualsiasi altro tipo anzi dal 2015 la stazione unica appaltante regionale è stata sempre destinataria di valutazioni ampiamente positive proprio da parte del ministero dell'economia delle finanze che in relazione alle performance positive realizzate l'ha costantemente ammessa al riparto del fondo incentivante ex articolo 9 della legge 89 del 2014 e non ha ricevuto alcun rilievo da parte dell'ANAC in ordine alle modalità di espletamento delle funzioni istituzionali ciò evidenziato l'articolo 6 modifica unilateralmente il piano di rientro che prevede la predisposizione delle gare da parte della sua nonché un budget prefissato per tale attività al fine di consentire un risparmio di spese le norme del disegno di legge del decreto legge in oggetto invece comportano spese aggiuntive per l'utilizzazione obbligatoria di un diverso soggetto aggregatore e finiscono oltretutto per determinare un impoverimento del sistema imprenditoriale calabrese parliamo di questo per quanto riguarda appunto l'articolo l'articolo 6 è chiaro che tutte queste considerazioni io ho voluto fare nel merito del provvedimento naturalmente avendo voi ben chiaro che trattandosi di materia concorrente sarebbe stato sarebbe è necessaria l'intesa tra il governo e la regione cosa che è stata ampiamente credo stamattina evidenziata anche dai rappresentanti della conferenza delle regioni che hanno prodotto in tal senso un documento io credo noi abbiamo più volte sollecitato il ministro ad aprire un tavolo l'8 di luglio dell'anno scorso non vorrei sbagliare la data se l'8 o il 18 ma l'8 di luglio del 2018 nel primo incontro che il ministro ha fatto con i presidenti delle regioni io ho posto l'esigenza di aprire un tavolo specifico sulla Calabria perché data la condizione appunto particolare della Calabria si aprisse rapidamente un un confronto tra il ministero e la regione cosa sollecitata e reiterata più volte mai realizzata mai realizzata oggi siamo in presenza di un atto che io considero assolutamente incostituzionale un atto che costituisce uno strappo un atto che nei contenuti non è una risposta ai problemi che pone appunto che si pongono per il servizio sanitario calabrese e dall'altra parte e dall'altra parte è un atto che appunto tende a cioè che mette in discussione i capisaldi fondamentali di relazioni istituzionali costituzionalmente garantite costituzionalmente garantite io vi chiedo quindi di di valutare attentamente queste 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 considerazioni perché noi abbiamo una sola esigenza quella di fare in modo che i calabresi possano essere tutelati nella cura della propria salute che si possa finalmente spezzare una circuito per cui dal 2010 al 2017 che il dato del 18 ancora non l'abbiamo definitivo ma al 2017 le risorse per mobilità passiva che la regione sborso e paga sono passate da 200 milioni di euro a 320 milioni di euro e i calabresi che sono spinti ad andare fuori per curare la propria salute sono cresciuti progressivamente questo è determinato dal fatto che appunto evidentemente si è alimentata anche una sfiducia oltre che per inadeguatezza dei servizi una sfiducia perché ci sono anche eccellenze in Calabria c'è questa contraddizione nel sistema sanitario che però pagano vengono mortificate da questa alone di sfiducia che si è determinato che si è determinato e quindi cioè è davvero curioso che curioso che l'unico soggetto che non è sottoposto a controllo a verifica è il commissario l'istituto parlo del commissario che è stato preposto per circa nove anni ad assumere pieni poteri salvo quello delle nomine anche perché parliamoci molto chiaramente i nominati rispondevano ai commissari e non certamente alla regione io sono presidente della regione dal 2015 dal primo gennaio 2015 il 10 dicembre 2014 possiamo dire dal primo gennaio 2015 non ho mai assunto un atto amministrativo in giunta perché non potevo perché i poteri ordinari sono assunti pienamente dal commissario ad acta quindi di cosa di cosa parliamo lo dico questo perché anche su questo su questo versante bisogna con serietà fare un'operazione verità partendo da quello che è la situazione e non capovolgendo le carte in tavola perché appunto almeno nelle sedi istituzionali io mi auguro che le valutazioni vengano siano valutazioni di merito e siano rispondenti a quelle che sono le esigenze del territorio in questa sede io sono venuto in qualità di presidente della regione rappresentante di tutti i calabresi perché ho sentito capisco che siamo in tempi nei quali la cultura delle istituzioni va scemando ma mi preoccupa il fatto che parlando di sanità calabrese si carichi il colore della maglietta io ho avuto polemiche aspre sono note sono pubbliche non sono un'invenzione di questa sera nessuno può negare questo con i governi con i presidenti del consiglio del partito a cui io appartengo in modo pubblico con toni anche aspri e anche ricorrendo qui è stato ricordato da qualcuno a pronunciare iniziative forti quali quelle dell'incatenamento che non è stato realizzato per la semplice ragione che mi era stato diciamo prospettato bene ringrazio De Filippo e lui non a caso lo ringrazio per averlo per averlo per averlo ricordato mi era stato prospettata una soluzione in tempi brevi di superamento di una condizione che era iniziata nel 2010 di superamento del commissariamento e qui vengo alla seconda risposta io ho ricordato nella mia nel mio intervento introduttivo la sollecitazione più volte reiterata al ministro di un tavolo sulla sanità calabrese sono atti sono lettere c'è protocolli che dicono questo non è che c'è la conferenza stato-regioni nella quale io ho sollevato questo problema perché un tavolo perché ritenevo e ritengo ancora oggi che affrontare i problemi della sanità calabrese è possibile superando una esperienza che ne ha l'ha aggravata la condizione della sanità calabrese superando l'esperienza del commissariamento non già per concentrare i poteri sul presidente della regione ma per affermare un altro percorso che io ritengo quello più consono ad affrontare i problemi della sanità in calabria come in altre regioni laddove si dovessero evidenziare si evidenziano problemi di questa natura cioè quello dell'accompagnamento la regione responsabilizzata con vincoli precisi con un quadro di riferimento di obiettivi chiari con l'accompagnamento da parte del ministero e non con operazioni appunto che non fanno altro che aggravare il male perché questo decreto e vi prego non ci si può girare intorno con questo decreto non si affronta il problema della sanità si affronta solo il problema di estendere i poteri commissariali a quello scampo di funzioni che è rimasto in capo alla regione che è la nomina dei direttori generali punto poi per quanto riguarda la domanda che è stata proposta a proposito del direttore generale noi abbiamo fatto un avviso nell'ambito delle nuove regole che come sapete prevedono un albo nazionale e la manifestazione di interesse da parte delle regioni per cui coloro i quali sono nell'albo nazionale possono esercitare la facoltà di dire io sono disponibile ad esercitare la funzione di direttore generale in una regione perché la selezione delle qualità la fa la regione dei requisiti la fa la regione la regione fa una manifestazione di interesse a cui possono partecipare esclusivamente coloro i quali sono già compresi nell'albo nazionale quindi l'onorevole Sapia nessuna nessuna come dire è informato male da questo punto di vista se lei avesse chiesto all'onorevole Nesci che la segue da tempo questa problematica lo avrebbe informato appunto di come le cose stanno per quanto mi permetto di consigliare un rapporto con la sua lo dico amichevolmente con una battuta naturalmente lo dico anche perché siamo calabrese quindi possiamo permettercelo diciamo un poco di come dire di distensione anche nella 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 discussione nella discussione tra tra e confinanti diciamo sì ma anche 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 i lombardi sono sti confinanti poi vi spiegherò perché e e almeno per quanto riguarda la sanità perché i lombardi sono come dire e la regione lombardia è quella maggiormente destinataria di quella parte di mobilità che che la calabria che la calabria paga parte del nostro sangue ecco perché e quindi praticamente anche su questo punto vorrei essere vorrei essere chiaro anzi per quanto riguarda questo aspetto il decreto revoca revoca la le procedure dei direttori già avviate per i direttori generali e guardate sono procedure che si revocano rispetto a quel quadro di riferimento non a una decisione del presidente della regione rispetto a un quadro di riferimento nazionale perché si dà facoltà di andare oltre l'albo nella scelta dei commissari come? si 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 mi sapete dire qual è la razio di questa cosa? la razio uscire fuori dall'albo nazionale con avviso indetto dal ministero della salute qual è la razio? di questa norma siccome voi state esaminando il decreto vi prego di approfondirla questo aspetto non sto parlando di decisioni calabre sto parlando di un quadro di riferimento generale nazionale chiaramente e direttori io ho fatto un'osservazione facendo riferimento alla relazione rispetto alla alle risorse che sono state messe in campo relativamente alle indennità per giustificare questi aumenti non ho detto che appunto i direttori generali devono essere calabresi lo dico all'onorevole all'onorevole Boldi questo non ho detto questo io io ho detto che non si può mettere un discrimine con una motivazione per giustificare questo aumento perché sia assurdo cioè il Parlamento non può in un suo atto sancire appunto rispetto ad una regione qualsiasi regione del paese una impostazione di questo di questo tipo perché io non accetto questo e nel dire questo non vi sto dicendo devono essere calabresi vi sto dicendo che i calabresi concorrono alla pari dei Lombardi dei Veneti dei Laziali cioè concorrono le professionalità non ci può essere come dire una specie di marchiatura diciamo da questo punto da questo punto da questo punto di vista poi per quanto riguarda i rilievi fatti dall'onorevole Baroni vorrei dire che l'onorevole Baroni cioè io adesso approfondirò questo aspetto che lei ha detto però mi permetto di dire anche qui che il commissario quello precedente quello precedente ancora e quello attuale che c'è già da gennaio sono quelli sono i soggetti che interloquiscono con il Ministero della Salute con il Ministero della Salute non interloquisce Oliverio io non ho avuto mai la possibilità di avere una convocazione dal Ministro della Salute il Ministro della Salute convoca i commissari al tavolo adduce che è il tavolo interministeriale delle verifiche non viene invitato il Presidente della Regione viene invitato il commissario questo a sottolineare il fatto che anche per quanto riguarda questi aspetti c'è appunto un problema che è riconducibile alla funzione commissariale io mi permetto di 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 chiedere al Presidente della Commissione di fornire a tutti voi i decreti i decreti io ho fatto una sintesi se volete ve la lascio di nomina dei commissari con i relativi punti che sono esplicativi delle funzioni che si assegnano ai commissari e che si sottraggono al potere ordinario a quello della della Regione per rendervi conto che praticamente tante delle cose che voi avete detto sono in capo ai commissari per esempio ne avete sollevato una che è importantissima non mi ricordo chi l'ha sollevata e chiedo scusa quella relativa alla rete dell'emergenza urgenza ecco l'onorevole Carnevali il terzo punto della nomina del del commissario ad acta il terzo recita adozione del provvedimento di riassetto della rete dell'emergenza urgenza secondo quanto previsto dalla normativa vigente il commissario vi potrei anche parlare della dell'altra osservazione che è stata fatta anche dall'onorevole Carnevali circa le osservazioni della Corte dei Conti che sono riferite fondamentalmente all'ASP di Reggio Calabria all'ASP di Reggio Calabria sia relativamente al personale sia relativamente alle esposizioni debitorie il punto 15 delle funzioni assegnate al commissario recita conclusione onorevole Carnevali vorrei che mi seguisse conclusione della procedura di regolarizzazione delle poste debitorie relative all'ASP di Reggio Calabria proprio specificamente all'ASP di Reggio Calabria cioè funzioni in capo al commissario ora naturalmente io vi lascerò questa breve nota che sintetizza diciamo tutta questa questa problematica perché voi la possiate come dire avere e quindi approfondire anche questi questi aspetti ma io vi posso assicurare che nel corso di questi anni di mia esperienza alla guida della regione con un commissario nominato dal precedente governo per capirci io non ho avuto la possibilità di interloquire per porre i problemi nel senso che io ritengo avrebbero potuto e potrebbero essere affrontati in direzione della riqualificazione del sistema perché l'operazione che è stata fatta in questi anni in Calabria è stata di taglio cosiddetto lineare di indebolimento dei servizi sui territori indebolimento dei servizi sui territori e di concentrazione della domanda penso per esempio all'emergenza urgenza e pronto soccorso chi calabrese sa di cosa parlo verso gli ospedali hub o gli ospedali spoc che sono stati anche questi indeboliti parliamoci molto chiaramente carenza di personale depauparamento dei servizi sul territorio ha determinato una condizione di ingorgo nei pronto soccorsi degli hub e una spinta ulteriore alla mobilità perché chi ha potuto programmare programmare il suo intervento lo ha fatto anche per patologie cosiddette tra virgolette richiedenti interventi ordinari come ricordava prima l'onorevole Misiti ma perché si è determinato questo questo quadro per cui spesso appunto c'è stato un incentivo determinato da questo da questo da questo quadro di riferimento e noi non abbiamo avuto mai la possibilità di fare una interlocuzione poi anche l'altra considerazione che si faceva vorrei che questo fosse chiaro relativamente ad alcune aziende sanitarie in modo particolare a Reggio Calabria e ad altre anche circa appunto situazioni di di illegalità di illegalità vorrei l'ho detto stamattina in un'assemblea che c'è stata organizzata alle organizzazioni sindacali ho fatto fare una ricerca io negli ultimi 15 anni nell'aspe di Reggio Calabria quasi 10 9 qualche mese sono stati gestiti da gestioni commissariali concertate con il ministero degli interni sto parlando di una cosa precisa oltre i commissari anzi nell'ultimo anno c'è stato il commissario ad acta che è stato anche commissario dell'azienda di Reggio Calabria dell'azienda di Reggio Calabria quindi io pongo un problema che è quello di avere un approccio ancora ci sono gli spazi non so se c'è la volontà politica ancora ci sono gli spazi di avere un approccio di creare le condizioni di un rapporto collaborativo il rapporto collaborativo non è nelle relazioni istituzionali affidato alla volontà è affidato a regole il rapporto collaborativo anche in un rapporto societario privato il rapporto collaborativo se non è sostenuto da patti parasociali da regole nulla qui siccome parliamo di istituzioni ci può essere una regola per costruire questo rapporto collaborativo e la regola è quella non di dire la regione pieni poteri e lo sta no è quella di lo diceva prima Stumpo credo facesse riferimento ad un modello di questo tipo che si può approfondire naturalmente è quella di costruire un rapporto per cui c'è una funzione di accompagnamento di controllo di verifica da parte del potere centrale ma di assunzione di responsabilità della regione in questo caso perché da dieci anni la regione è spoliata io non a caso ricordavo che nella giunta io in questi circa cinque anni fra qualche mese non ho mai assunto un atto deliberativo perché non potevo perché non ho il potere perché i poteri in quei punti che sono stati elencati nei decreti che affidano le funzioni ai commissari sono trasferiti interamente interamente ai commissari interamente ai commissari non si vuole assumere questo percorso naturalmente ognuno assume le proprie responsabilità io ritengo che non si affronteranno i problemi e mi auguro di essere profeta di sventura me lo auguro per la mia terra non si affronteranno i problemi con questo percorso non si affronteranno perché i problemi si affrontano se si va come dire al merito delle questioni e non ai contenitori ma al merito delle questioni e con questo decreto purtroppo il merito non si affronta vi prego rileggetevi via via che lo approfondirete lo esaminerete questo decreto i contenuti di questo decreto perché non affrontano i problemi che sono quelli dei servizi e della riorganizzazione della sanità della sanità in Calabria affrontano solo il problema di passare quello scampolo di poteri che naturalmente a questo punto ve lo dico qui io io non sono interessato ve lo dico in una sede istituzionale in modo che sia chiaro io non sono interessato il governo può già decidere di prevedere il passaggio della nomina diretta io non sono interessato perché a me non interessa l'intesa sui nomi no non mi interessa la dico in questa sede formale che appunto è autorevolissima perché lì è previsto che il commissario fa l'intesa sui nomi con il presidente della regione e se questa intesa non c'è decide il governo può già decidere il governo ve lo dico subito non sono interessato io sono interessato a un altro percorso che non è quello della come dire spartizione dei nomi non mi interessano a me io sono interessato a un altro percorso che è quello di affrontare i problemi del servizio sanitario di riorganizzarlo e farlo con un altro percorso naturalmente anche rispetto alle questioni che sono state sollevate nell'intervento che io ho apprezzato diciamo per i contenuti dell'onorevole Carnevali noi paradossalmente in un periodo nel quale si discute di autonomia finanziaria stiamo differenziata stiamo spogliando appunto creando un precedente pericoloso questo ve lo segnalo stiamo spogliando una regione di scampoli di potere che sono state e state già riappropriate ve lo segnalo questo io sono stato parlamentare ho fatto dal 92 al 2006 4 legislature ho fatto 2 piene e 2 mezze e so come funziona questi precedenti saranno come dire il cavistello perché in futuro appunto si possono aprire altri varchi perché quando c'è un precedente non si può dire che valeva per quell'occasione e poi non vale e questo è un precedente pericoloso lo dico in qualità di precedente di una regione che non condivide l'impianto per come è stato posto dell'autonomia differenziata ma che ha la consapevolezza che c'è un problema di riflessione a 40 anni e più a 50 anni dall'esperienza regionalista circa il fatto che bisogna rivedere appunto l'assetto dello Stato tenendo conto di una domanda di autonomia che c'è e va considerata che c'è che c'è